La Procura di Palermo aggrava il peso giudiziario su Giovanni Lupino, l'autista di Messina Denaro, il giorno dell'arresto. Gli si contesta non più il favoreggiamento, ma l'associazione mafiosa. La Procura di Palermo lo scorso 22 settembre ha depositato istanza di rinvio a giudizio di Giovanni Lupino, 59 anni, l'agricoltore e commerciante di olive, la nocellara delle Belice, che alla guida di una Fiat Bravo ha accompagnato lunedì mattina, 16 gennaio, Matteo Messina Denaro alla clinica La Maddalena, dove il boss è stato arrestato dai carabinieri Lupino. Innanzi al pubblico ministero, Piero Padova si è difeso così. Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss. Mi è stato presentato come cognato di Andrea Bonafede, l'ho accompagnato perché doveva sottoporsi alla chemioterapia. Giovanni Lupino è imputato di procurati in osservanza di pena e favoreggiamento aggravati da mafia. Tuttavia, in occasione della prima udienza preliminare, la Procura ha modificato il capo di imputazione, aggravandolo in associazione mafiosa. Così come è già stato per Lorena Lancerri, presunta viva Andierra, insieme al marito Emanuele Bonafede, e compagna di merenda di Matteo Messina Denaro, e per i due cugini omonimi Andrea Bonafede, il Nato nel 1953 e il Nato nel 1959, presunti prestanome al lavoro per assecondare interessi e necessità mediche, non solo del boss. Da ulteriori indagini e approfondimenti ad opera dei Carabinieri del Ross, è emerso che lui, Lupino, avrebbe preteso denaro da alcuni imprenditori, presentandosi come emissario di Messina Denaro, e precisando che i soldi sarebbero stati destinati alla capo mafia, e ciò sarebbe stato confermato dagli stessi imprenditori, ascoltati come testimoni, e che hanno altrettanto precisato. I soldi chiesti, noi glieli abbiamo dati. Inoltre, dalle analisi delle celle telefoniche agganciate da Giovanni Lupino, emerge che avrebbe accompagnato in clinica Messina Denaro per ben 50 volte in due anni, altro che frequentazione occasionale. E spesso i due avrebbero trascorso la notte a Palermo, prima della seduta di chemioterapia alla Maddalena. E poi a Giovanni Lupino sono stati sequestrati degli appunti relativi ad alcuni medici oncologi, della clinica La Maddalena, e altri numeri telefonici per le prenotazioni di visite e trattamenti sanitari. E poi vi è un appunto sulla guarnizione per una Giulietta, esattamente lo stesso modello dell'automobile di Matteo Messina Denaro, l'Alfa Romeo nera modello Giulietta, che è stata trovata dalla polizia a Campobello di Mazzara, nei pressi del suo terzo covo, in via San Giovanni, innanzi all'abitazione di Giovanni Lupino, nel garage del figlio di Lupino. I difensori di Lupino hanno ottenuto un termine per esaminare nuovi esiti investigativi e l'udienza innanzi al giudice per le udienze preliminari è stata rinviata al 24 novembre.